Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video per parlare un po' meglio di quello che è stato il sorteggio dei calendari di Serie A di ieri sera. Quindi andiamo a vedere un po' tutte le partite del Napoli, tutto il calendario del Napoli e poi andremo a vedere anche quali saranno le giornate in cui ci saranno i big match. Io ho considerato big match gli scontri tra Napoli, Juventus, Inter, Roma e Milan. Ora andiamo a vedere tutto il calendario del Napoli. Quindi alla prima giornata il 20 agosto ragazzi Verona-Napoli, no si giocherà sabato sera il 19 e sabato sera Verona-Napoli perché noi poi quattro giorni dopo teniamo il ritorno dei play-off di Champions. Poi la seconda giornata Napoli-Atalanta, la terza Bologna-Napoli, quarta il derby subito Napoli-Benevento, alla quinta Lazio-Napoli e questa è tosta, la prima partita tosta, vabbè diciamo anche con l'Atalanta è tosta, poi seconda partita consecutiva fuori casa Spalla-Napoli, poi alla settima giornata Napoli-Cagliari e diciamo che le prime sette giornate sono abbastanza in scioltezza e dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili. Però poi, ottava e nona giornata abbiamo due scontri diretti consecutivi, cioè Roma-Napoli e Napoli-Inter. Poi alla decima giornata abbiamo Genoa-Napoli, alla undicesima Napoli-Sassuolo, dodicesima Chievo-Napoli, tredicesima Napoli-Milan, quattordicesima Udinese-Napoli, ora due partite consecutive in casa, Napoli-Giuventus alla quindicesima e Napoli-Fiorentina alla sedicesima, poi Torino-Napoli alla diciassettesima, Napoli-Sampdoria alla diciottesima e Crotone-Napoli alla diciannovesima. Quindi, analizzando un po' il nostro calendario, ragazzi, diciamo che le prime sette giornate sono abbastanza abbordabili, tranne Lazio e Atalanta, che comunque sono sempre due squadre molto ostiche da affrontare. Poi all'ottava e alla nona giornata abbiamo Roma e Inter consecutivamente e un dato che può essere negativo è quello che alla quindicesima e alla sedicesima giornata del girone di ritorno avremo due trasferte consecutive, Juventus e Fiorentina e quelle probabilmente potranno essere le partite decisive del campionato a Torino con la Juve e a Firenze con la Fiorentina. e poi il girone di ritorno dovremmo andare anche a Milano, a Milano con l'Inter anche, quindi diciamo che la maggior parte degli scontri diretti nel girone di ritorno li teniamo fuori casa. Però ricordiamo che anche l'anno scorso avevamo partite molto difficili fuori casa nel girone di ritorno, avevamo Inter, Milan, Lazio e Roma tutte fuori casa nel girone di ritorno e le vincemmo tutte, quindi non è che può essere sempre un dato negativo. Certo, perché sono anche verso la parte finale della stagione tutte, quindi qui ci giochiamo davvero il campionato, mentre lo scontro diretto con la Roma, il girone di ritorno ce l'abbiamo in casa, l'unico scontro diretto che abbiamo in casa nel girone di ritorno è quello con la Roma, mentre gli altri con Juve, Inter, Milan li teniamo tutti nel girone d'andata e poi alla sedicesima giornata comunque è sempre molto complicata anche la trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Poi abbiamo un calendario un po' complicato per quanto riguarda le coincidenze campionato Champions, perché c'è la Champions nella settimana tra Roma-Napoli e Napoli-Inter e c'è la Champions, l'ultima giornata del girone di Champions League tra Napoli-Juve e Napoli-Fiorentina. Ora diciamo Champions perché non voglio neanche immaginare che non supereremo il play-off di Champions, però ragazzi sono sicuro che Mister Sarri riuscirà a gestire al meglio la situazione perché ora abbiamo una rosa piuttosto ampia e non dovrebbe essere un problema avere tutte queste partite importanti consecutivamente. Ora ragazzi andiamo a vedere un po' quelli che saranno i big match e quando ci saranno gli altri big match tra altre squadre noi con chi giocheremo. Allora, all'ottava giornata ci sono due big match, cioè noi andremo all'Olimpico, ci sarà Roma-Napoli e ci sarà anche il derby Inter-Milan. Alla seconda giornata c'è Roma-Inter, scusate avevo saltato la seconda giornata, alla seconda c'è Roma-Inter e noi alla seconda giornata giocheremo in casa contro l'Atalanta. Poi alla settima giornata c'è Mila-Roma e noi giocheremo in casa contro il Cagliari, ci sarà Napoli-Cagliari. Come abbiamo detto all'ottava giornata due big match, Roma-Napoli e l'Inter-Milan. Alla nona giornata c'è Napoli-Inter, alla undicesima c'è Milan-Juventus e noi giocheremo in casa contro il Sassuolo. Poi alla tredicesima c'è Napoli-Milan e c'è anche il derby di Roma-Roma-Lazio. Alla quindicesima c'è Napoli-Juventus, alla sedicesima c'è Juventus-Inter e noi giocheremo in casa contro la Fiorentina. Mentre alla penultima giornata, alla diciottesima, ci sarà Juventus-Roma e noi giocheremo in casa contro la Sampdoria. Quindi come abbiamo visto ragazzi, come anche per noi, anche per altre squadre, ci sono big match a distanza di poche giornate. Quindi ragazzi, speriamo bene che questa stagione andrà bene, speriamo che sarà la stagione ragazzi. Dobbiamo cercare di non perdere troppi punti contro le piccole come abbiamo fatto l'anno scorso. Dobbiamo vincere per esempio, non dobbiamo perdere i punti che abbiamo perso l'anno scorso con Palermo e Pescara, che ora non ci sono più in Serie A. Quindi vabbè, in poche parole non dobbiamo perdere punti contro le piccole e anche nei big match speriamo di riuscire a fare del nostro meglio in modo da raggiungere quello che noi tutti sogniamo, cioè lo scudetto. Ragazzi, ora il 4 agosto ci sarà il sorteggio dei play-off di Champions, anche in quel caso faremo la live. Avete visto ieri la live durante il sorteggio dei calendari. Noi eravamo arrivati fino alla fine, siamo stati in diretta fino a quando era stata sorteggiata la diciannovesima giornata, però non so perché poi si è bloccato quando avevo staccato per un attimo il router del telefono per mettere la mia wifi, altrimenti il telefono si sarebbe consumato tutto, però era andata la live fino alla fine, poi non so perché YouTube non me l'ha caricata, me l'ha caricata fino a quando era uscita l'undicesima giornata Napoli-Sassuolo. Ragazzi, lasciate un bel like, commentate se vi va, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi, al prossimo video, sempre Forza Napoli!